salve a tutti oggi volevo recensire il liquido clara tea della tea juice aspetta che tipo lo svapo vabbè sa tipo il redaster però un po più lento non è che sia tutta sta cosa ma vado a leggere il nome completo che l'azienda tea juice ha dato a questo liquido quindi clara tea in realtà è clara scusate whatsapp clara tesoro mio tu sai che il redaster non potevi fumarlo perché sei una donna femminiale e non lo reggi allora per te ho creato questo nuovo aroma che è tipo il redaster però un po più frocio e quindi te lo puoi svapare tranquillamente ora si spiega tutto